Niente elezioni in autunno a Partinico. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso di accogliere la proposta del Viminale e sciogliere il Comune in provincia di Palermo per infiltrazioni mafiose. Per i prossimi 18 mesi l'amministrazione locale sarà ufficialmente guidata dai commissari prefettizi. Nei prossimi giorni il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, filmerà il provvedimento. Secondo l'ispezione condotta da Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, le infiltrazioni della criminalità organizzata avrebbero compromesso l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa. Tutto è partito dalle dimissioni dell'ex sindaco Maurizio De Luca, arrivate a maggio 2019 a nemmeno un anno dalla sua elezione alla guida della città. Proprio l'ex primo cittadino sarebbe stato sottoposto a pressioni e osteggiato dalla sua stessa maggioranza, sotto i riflettori degli inquirenti l'affidamento di alcuni servizi fondamentali, dal legare d'appalto per il servizio della raccolta dei rifiuti ai servizi sociali. Proprio l'imparzialità amministrativa.